un saluto alla community di cortina 2021 sono petra e tra poco a partire dalle 18 sarò proprio io a presentare la cerimonia inaugurale di questi mondiali di sci di cortina 2021 e su questo palco ci saranno un sacco di ospiti il carnevale di venezia i grandi campioni dell'osci ma anche francesco gabbani gianna nannini quindi non mancate mi aspetto ciao sono alf per me un onore essere qui alla cerimonia di apertura dei mondiali di sci di cortina forza turri la testa e la cerimonia di inaugurazione la crista e grina ciao forza turri